Perfetto, proviamo a trasformarla in un rollover, un esercizio che si fa di solito a corpo libero, portando le gambe prima in alto, poi indietro. Andiamo a prendere questa volta la barra da sotto, la feriamo sempre a larghezza spalle, pieghiamo leggermente i gomiti, sempre come se fosse un push up, quindi con i gomiti in alto, solleviamo una gamba alla volta a tavolino. Partendo con le gambe a tavolino, le ginocchia sono unite e i piedi sono uniti, quando stendo le braccia, le braccia non fanno effetto di tenermi, ma fanno effetto di spingermi. Questa sensazione di spinta mi permette di arrotondare la parte bassa. Quando vado indietro, se riesco con i piedi in flex, dovrei incontrare la barra. Spingo per stendere bene gli ischio crurali, quindi spingo dei talloni, e quando riporto le gambe in alto con i piedi puntati comincio a snocciolare. Rallento la snocciolamento tenendo dall'addome, mi traziona, e quando appoggio il bacino devo ritrovare la mia squadra. Arco fisiologico, e mi raccomando. Quando vado indietro comincio a flettere le caviglie, spingo con le braccia, raggiungo la barra, e quando ho i piedi appoggiati spingo il tallone indietro. E sento che mi è mancato, con le gambe tese, un centimetro. È quel centimetro che mi permette di allungare la catena posteriore. Quando punto i piedi in alto cominciamo piano piano a tornare. Lentamente trattengo, piego i gomiti, e quando appoggio il bacino recupero l'arco fisiologico. Ora vi ho detto tante volte, quando facciamo questo tipo di lavoro, che la parte attiva del movimento, quindi quando vado indietro, e spingo dai talloni, è meno importante della parte negativa. È qua che io devo riuscire ora a tornare lentamente, quindi a trattenere il peso delle gambe, attivando il mio addome. E una vertebra alla volta devo sentire che le mie vertebrine si schiacciano a terra, come se volessero dare l'impronta delle vertebre sul pavimento. È qui che dovete concentrarvi, è il ritorno che è importante. Quando spingo a lungo, spingo dai talloni. Quando sento le dita che si appoggiano, spingo ancora un pochino più indietro. Punto il piede, snocciolo, trattengo il peso e ritorno. Ora cercate il rollover di farlo sulle scapole. Non andiamo sul collo, vado dietro, spingo, appoggio le dita. Spingo i talloni sull'inappoggio scapolare. Punto i piedi, comincio a snocciolare. Una vertebra alla volta, trazione e riappoggio. Ultima volta, inspiro. Quando ho le braccia attese, appoggio le dita. Spingo lontano, ritorno.